Io penso, al di là di... mi fa piacere che abbia riconosciuto la nostra prestazione, però dà fastidio perdere le partite così al 95esimo, al 96esimo, prendere un gol contro pietro. Io capisco la volontà, la voglia di vincere, però dopo tre sconfitte, anche se porti a casa qualcosa di importante, anche per interrompere un'emorogia di risultati... Non è arrabbiato con i suoi? No, io non sono mai arrabbiato con i miei, perché capisco anche la volontà e la voglia di fare, però secondo me bisogna anche essere intelligente. No, è finita la partita, hai avuto un mare di occasioni per poter vincere, non ci sei riuscito, porta a casa un risultato. Braglia, possiamo dire, per quello che abbiamo visto dalla tribuna, che dopo l'espulsione di Sciaudone è un po' cambiata la partita. Cosenza, Ettore, si è un po' arretrato, avete avuto forse un po' di timore e Pescara ha cercato di approfittarne. No, io penso che il Cosenza abbia avuto dei problemi, perché si è fatto male un paio di ragazzi, sono stati fatti dei cambi obbligati, molto probabilmente non stando benissimo alcune persone ci siamo abbassati. Io credo che l'espulsione di Sciaudone sia stata letteralmente inventata, lo dico tranquillamente, senza polemica, non è che mi interessa fare polemica dopo, però non ci stava, non è un metro di giudizio che rispecchia il comportamento di un calciatore, perciò noi al di là di tutto stavamo gestendo la partita con tranquillità, abbiamo avuto un'occasione anche abbastanza importante prima, perciò a me ogni tanto quest'anno succede un po' troppo spesso che qualcuno ci penalizza un po', diciamo, dai, senza aggiungere altro, perché tanto serve. Dopo i primi dieci minuti dove il Pescara aveva approcciato bene avete fatto una grande mezz'ora nel primo tempo, fino all'espulsione di Palmiero che poi ha cambiato un po' tatticamente tutto nella ripresa. Dove siete stati bravi in quei 35 minuti? Noi abbiamo interpretato la partita per quello che dovevamo fare noi, noi avevamo visto che ogni tanto Galano s'abbassa, s'alzano e musciai, abbiamo cercato di chiudere gli spazi e di ripartirli con qualità, perché poi questa è una squadra che ha anche delle qualità, perché Canutea al di là del passaggio laterale che ha sbagliato ha fatto una partita importante, e Casasola nel primo tempo, finché era brillante, ci ha dato una grande spinta, perciò a me dispiace, veramente dispiace che sia finita così, però le partite bisogna saperle interpretare, perché poi dopo le perdi e non ti rimane altro che il rammarico. Daglia, alla vigilia di questa partita si era letto sulla stampa calabrese che la sua panchina era in pericolo dopo tre sconfitte consecutive, questa sera è arrivata la quarta sconfitta consecutiva. Le leggo anch'io le cose, ognuno deve... Hai parlato con qualche dirigente? Ma no, io non... La squadra è sembrata viva. Non lo so, queste non sono cose che devo giudicare io, queste sono cose della società, se la società ritiene opportuno, in base ai risultati, cambiare l'allenatore lo deve fare. Io non è che... Io sono convinto che questa è una squadra che viva, una squadra che ha la sua personalità, il suo modo di stare in campo. Non è finito niente, anche se è chiaro che ogni giornata che passa diventa sempre più difficile. Parlare di altre cose, io sono convinto che sono anni in cui o ti va tutto bene o ti va tutto male. Quest'anno onestamente tutto bene non ci sta andando. Grazie.